Stiamo a vedere il primo episodio della stessa stagione di Game of Thrones Lui è giusto E' quello che non fa niente Davide non ha mai visto video DOOOOOO Figgio di pittà nessuno con il suo cuore DOO 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 Sono tutti sconserga E' stato giusto E' stato giusto E' stato giusto E' stato giusto Non possiamo mica sprecare Oh mio E' stato giusto E' stato giusto Ti immagini morire di malattie di Windows? Devi essere proprio spiegato Qua parte della Commission Dobbiamo scaldarci senza D'ho imbricciato Aaaaaaah Non lo credo Ma è proprio un'inizia E' bene 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 E' viene Aaaaaaah Aaaaaaaaa Aaaaaaah Aaaaaaah Ma cosa cazzo sei Eeeeh Dai Aaaaah Uuuuuuuuh Ooooooo Con queste scene mi cliccavano così SENE SENE VIII Chi cazzo glielo dice a sta S so No No! E' la caramelo! Porca tua! Porca p***a! Ma lei è leale! Raga, scusate! Ho detto una mucigliata! È molto vero! Amma, fino a te! No! Oh, no! Oh, no! Ma non sei mancato! Qualcuno da neri, scuola e neri! Non andiamoci fra noi! Qualcun cavallo? No! Dani, giora! I dottori che sono simpatici! Come si entra qualcuno e lei si mette rispondi a rischiare? Ah, io riesco! Io riesco! Focolata! Ah! 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 Non sono più felice! Ah! David, David è più felice! Molto lo stafforio di Monlee Shawi, dimostri! ürü! O è nata avanti! Take a peer-up! tra i peppoli in mezzo ! Forse di ogni tanto! Mi non c'è sa scoperta...